E' stata definita una battaglia di civiltà per garantire una maggior sicurezza. E' partita da un gruppo di pesaresi l'idea di lanciare una campagna di comunicazione per chiedere all'amministrazione comunale di ridurre la velocità sulle strade cittadine. Città 30 è una città che sceglie di moderare la velocità a favore di tutti i cittadini. Moderare la velocità ai 30 km all'ora, ovviamente tranne negli assi principali, nelle strade principali di scorrimento. E' una misura che è già stata introdotta da diverse città europee negli anni e che è già in realtà consolidata in alcuni stati. Addirittura la Spagna, ad esempio, l'ha introdotta nel 2021 su tutto il territorio nazionale. Ed è una città a beneficio di tutti. Non è una misura a favore dei ciclisti o una battaglia ambientalista. Spagna è una città che, grazie a questo intervento, si pone l'obiettivo di diminuire gli incidenti e le conseguenze fatali o comunque gravi degli incidenti, di recuperare il ruolo sociale della strada, che è lo spazio pubblico più importante all'interno di una città. E da un punto di vista poi della mobilità, è un intervento che favorisce la mobilità sostenibile con tutti gli impatti che ha la mobilità sostenibile, quindi una riduzione dell'inquinamento, una riduzione delle emissioni. La campagna Pesaro 30, poi aggiunto il portavoce, è affiliata a quella di Bologna che nel 2021 ha portato un nuovo sindaco ad approvarla. L'obiettivo, ha proseguito, è quello di sensibilizzare i cittadini per portarli a cambiare mentalità. Facciamo partire oggi una raccolta firme, abbiamo diversi punti in città che hanno già dato la disponibilità per arrivare a un numero consistente di firme, adesso non ci poniamo obiettivi di quante saranno, però un numero consistente tale da far vedere all'amministrazione che c'è consenso, che c'è volontà per arrivare alla città 30. Abbiamo un sito che si chiama www.pesero30.org All'interno del sito ci sono tutte le informazioni su cos'è una città 30, su quali sono i benefici di una città 30, ci si può firmare direttamente sul sito oppure sono riportati tutti i punti firme dislocati nei vari quartieri della città.